La protesta degli allevatori sardi che stanno buttando in queste settimane il latte per strada è una protesta giusta da sostenere. Boicottare l'industria della grande distribuzione alla quale si svenne il latte a 50-60 centesimi al litro significa non poter vendere questo latte, perché il latte di pecore, il latte di capra, deve essere pastorizzato o deve essere trasformato attraverso i caseifici. Non può essere né regalato né venduto direttamente. E quindi vi siete chiesti come potrebbero fare i pastori, gli allevatori in una perenne crisi economica che dura da anni e che vedono anche le case vendute all'assa per gli indebitamenti di questi ultimi anni ad avere la disponibilità economica per creare dei magazzini sociali, dei caseifici sociali per la trasformazione di questi prodotti e la vendita diretta che possa scavalcare il mercato dello sfruttamento della grande distribuzione. È impossibile. I pastori e gli agricoltori non lo possono fare. Così come non possono farlo gli agricoltori per poter vendere direttamente i loro prodotti se no in piccolo, in piccolissimo, ma non basta. E quindi vi chiedo di capire, di comprendere le ragioni della protesta e anche le modalità perché questo latte in ogni caso non potrebbe essere regalato, andrebbe versato dietro i casolari. Invece è giusto che venga riversato in piazza così tutti si rendono conto della disperazione alla quale questo mercato, questo sistema ha indotto i produttori e gli allevatori di questo paese. Sosteniamo la protesta e che gli agricoltori si possono anche unire per rivendicare la dignità del nostro lavoro della terra.